Amici di Fuorionda, siamo nella casa circondariale di Villa Fastigi per assistere a un'esibizione dei ragazzi che frequentano il laboratorio di musica organizzato dall'associazione Sonart, diretta da Alessio Arcangeli. Gli insegnanti Susanna Polzoni e Riccardo Marongiu hanno guidato gli allievi durante l'esibizione. La performance musicale è stata preceduta da un breve saluto della dottoressa Vilella, responsabile delle attività educative, del comandante degli agenti di polizia carceraria in servizio a Villa Fastigi Giovanni De Candia e del vice sindaco di Pesaro Daniele Vimini. Tutti gli intervenuti hanno evidenziato i notevoli risultati raggiunti con l'attività musicale svolta nella struttura carceraria. Il vice sindaco ha quindi consegnato un riconoscimento ai partecipanti e alla direzione della casa circondariale per la realizzazione del progetto. Ed ora si parte con la musica. 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 Niente dovevi sempre andare via, niente, niente, dentro va la perea di te, niente, niente, a crescere paurini, a bere i vicini, niente, niente. Niente, 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 n con lo che vogliamo fare io e te con lo mani che sono però non è solo un sicuro con lo che vogliamo fare io e te non ci si pone e non è che abginare io e te io e te dentro parate io e te io e te io e te a crescere le famiglie a vedere i cibi io e te io e te raiati sul divano guardate più e sempre io e te io e te rompere le favore io e te io e te a crescere i bambini a vedere i cibi io e te io e te a crescere i bambini a vedere i cibi io e te io e te io e te come neve fa volere a crescere i cibi a crescere i cibi è un mio abbracamento che sta visto il luogo e che è proprio questo come vai? grazie le notti non finiscono alla pareda via le portano a casa insieme a me le faccio melodia e poi mi trovo a scrivere chilometri di lettere sperando di vedermi ancora qui inutile parlare sai non capiresti mai seguiti fino all'arpa e poi vedete dove vai mi sento un po' bambino ma non so quando deve non finirà il sogno di sentirsi nel confine e poi all'improvviso sei arrivata tu non so chi l'ha deciso mi hai preso sempre più ma non so chi l'ha deciso di averla qui seduto in una stanza legato per uccidere se non so chi l'ha deciso di averla se non ci sapessero che sono proprio io pensare che credevano che fossi quasi tia perché non mi fermavo mai nessuna storia inutile nessuna storia inutile per farmi uscire come mai ma chi sarai per fare questo a me non ti chiederei aspettati ma da aspettare te dimmi come mai ma chi sarai per farmi stare qui mi sei punto in una stanza legato per uscire fermi aperto il In mezzo a tutta questa gente, sei tu che vuoi, tu vuoi finire i conti, non ti frega niente, tanti ti cercano. Sprezzati da una luce senza futuro, arti sia il tuo amore, vorrebbero tenerti nel loro buio, ti brucerai, un piccolo stella senza cielo, ti mostrerai, ci canteremo mentre scoppi il muro, ti scioglierai, e non lasciare un soffio, un bello, ti staccherai, perché ti teni su soltanto il filo, sai. Tieni di su, le altre stelle sono disposte, solo che tu, a volte credi, non ti passi, forse capiterà, che ti si chiuderà, gli occhi la cora, o soltanto sarà, una parentesi, più una mezz'ora, mi brucerai, mi con la stella senza cielo, e non ti mostrerai, ti mostrerai, ci canteremo mentre scoppi il muro, ti scioglierai, e non lasciare un soffio, un bello, ti staccherai, perché ti teni su soltanto il filo, sai. Sì, è un po' di più, è un po' di più. Sì, è un po' di più. Bene, andiamo a tutti con un bravo di Stiglopo, e l'abbiamo parte di con voi. Diciamo che, dai, l'abbiamo parte di un testo del governo, e quindi attenzione le, a tutti, e le, a tutti, e le, a tutti, e le procedure di più. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.